E fissano dai parrucchiere una settimana prima per far la tintura Abbiamo appena posto ma 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 che va a spendere quattrini per i parrucchieri Quando uno vuole tranquillamente farlo in cassa basta avere un compressore Un aerografo e un po' di tintura tu la pigli anche dal negozio e via Ma poi anche più salutare che gli aderisce meglio A il lavaggio diciamo non gli va via Mentre dalla parrucchiera tu ti sciacquia per i due o tre volte Ti tocca ritornare a pigliare l'appuntamento Gli è lì la fregatura Questa gli è indelebile Qui tu riman tinto questo nero stile venditti Gli è proprio diciamo una cosa Ma poi che classe Che classe Cioè via ragazzi ma 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 questo gli avanti Ora magari gli schizzi in il viso magari uno si copre Può succedere basta chiudere gli occhi Capito non è quel di problema Comunque c'è una tintura più eologica Meno inquinamento O chi gli è questo la sera Comunque un parrucchiere che la sera fa anche diciamo ristorante Il pomeriggio parrucchiere la sera ristorazione Sempre picnic in quest'aia In quest'aia Vai fine Oggi escapito Speratina Vقimato Di a mani A destra l'aia Allora Allora Grazie a tutti.